Buonasera ragazzi, che ha fatto l'Inter stasera? Che ha fatto? Che ha fatto l'Inter? Cosa ha fatto l'Inter? Non lo sto sentendo ragazzi, cosa ha fatto l'Inter? Ma forse ha perso la corsa suolo 2-0, vero? Ha perso la corsa suolo 2-0. Cari interisti, avete l'incubo della Juventus. Sarò breve ma conciso. Avete l'incubo della Juventus. La Juventus ve la sognate anche la notte. Che rubiamo, vi abbiamo rubato le partite, vi rubiamo le scudette, il complotto, la mafetta del calcio, destra e sinistra. Fatevi curare da un psicologo bravo. Fatevi curare da un psicologo bravo. Stasera avete dimostrato che merda siete. E tutta l'Italia ha visto, tutta l'Italia calcistica ha visto, che voi non andate in Champions, se non vincete più i trofei da 7 anni, anche da 7-8 anni circa, perché siete delle merde. Non perché praticamente la Juventus vi ruba le partite o vi ruba i campionati. Perché da quando avete venduto la squadra ai cinesi, non siete stati in grado di allestire una squadra capace, quantomeno, non dico di vincere una Coppa dei Campioni di nuovo, o uno scudetto, o una Coppa Italia. Non siete stati in grado di allestire una squadra decente, che si possa classificare in zona Champions League. Non ci siete riusciti. Quindi, il consiglio che vi do, carinderisti, visto che stasera avete fatto l'ennesima figura di merda e avete perso corsa a suolo, al posto di parlare della Juventus l'anno prossimo, comprate i giocatori, comprate i giocatori, fatevi la squadra, fatevi la squadra. E poi, magari, se c'è qualche torta arbitrale, che non è fatto solo e fuori dalla Juventus, ma gli sbagli sono fatti anche pro altre squadre, quindi gli abiti, ricordiamo, che sono degli esseri umani, se ci dovessero essere degli sbagli e voi avrete forse una squadra forte, allora sì che potete parlare, ma per il momento, silenzio, non potete parlare, siete delle merde, stasera l'avete dimostrato perdendo corsa a suolo. Volete andare in Champions? Come? Perdendo corsa a suolo. Ma sì, è colpa di Pianci, è colpa dell'esposizione di Pianci, stasera avete perso 2-0. La mancata esposizione di Pianci, se vincevate stasera quanti punti erano? 3. E domenica scorsa che cazzo avete vinto? Va bene. Ma una squadra che deve andare in Champions perde corsa a suolo dentro casa, secondo voi? È normale una cosa di questa? La mancata esposizione di Pianci, ok. E durante tutto il resto del campionato, che minchia avete fatto? Che cazzo avete fatto prima di giocare con la Juventus? Cosa avete fatto le altre partite? Cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Quanti punti avete perso per strada? Perché non avete la squadra degna di qualificazione in Champions. E ora avrete la partita, se non sbaglio, chiave con la Lazio. Vediamo che cazzo fate lì. Vediamo cosa farete. Ciao a tutti e prima di parlare della Juventus, fatevi la squadra. E poi avrete il diritto di parlare di noi. Ciao a tutti e se me forza Juve. Ciao a tutti. Ciao.